Ancora sangue nella capitale, dove ora è caccia al branco. La vittima, stavolta, è un cinquantenne filippino, Lee Michael. L'uomo è stato ucciso a coltellate in via Anastasio II, a poca distanza dalla stazione della metropolitana di Valle Aurelia. Sulla vicenda indaga la polizia. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'uomo sarebbe stato aggredito in strada da più persone nel corso di una violenta lite, scoppiata per ragioni ancora da accertare. Determinanti per individuare il branco potrebbero rivelarsi le telecamere di sorveglianza. L'omicidio arriva a pochi giorni da quello del caporal maggiore Danilo Salvatore Lucente Pivitone, aggredito a morte nella zona di Centocelle. Per questa vicenda è da giorni ricercato un trentenne di origine tunesina. Bollette per famiglie e imprese più leggere nei prossimi mesi. Il prerequisito che il prezzo del gas resti sotto i 50 euro a megavattura. Ancora più rincuorante la stima per chi ha le tariffe fissate da Arera. Il minor costo stimato su base annua per una famiglia tipo infatti potrebbe sfiorare i 600 euro, 234 per il gas e 363 per la luce. Stando a quanto fermato dal presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli, al momento i prezzi sarebbero al minimo dal dicembre 2021 e di sei volte inferiori al picco toccato lo scorso fine agosto. La discesa del gas spinge al ribasso il prezzo dell'elettricità in tutta Europa e anche in Italia. Le bollette, che sono determinate con un mese di ritardo, verranno decise ad inizio marzo da Arera, ma con gli attuali prezzi internazionali. Nomisma Energia ipotizza un calo del 17%, a 0,83 euro per metro cubo, livello che non si vedeva dall'estate del 2021 e per le famiglie si tratta di un potenziale risparmio su base anno di 234 euro. Costerà poco meno di 12 dollari al mese l'autentificazione del proprio account Facebook e Instagram con tanto di spunta blu. Meta, l'azienda proprietaria dei due popolari social network, lancerà un abbonamento a pagamento che permetterà agli utenti di verificare la loro identità, come ha già fatto Elon Musk per Twitter. L'annuncio arriva direttamente dall'amministratore delegato della società Mark Zuckerberg. Tra le nuove funzioni garantite dal servizio a pagamento si potrà avere una protezione extra contro i furti di identità e un accesso rapido all'assistenza, ha spiegato Zuckerberg, precisando che l'abbonamento è solo per gli utenti maggiorenni. Il banco di prova per Meta Verified, questa settimana in Australia e Nuova Zelanda, poi toccherà agli Stati Uniti e ad altri paesi e prima o poi toccherà anche a noi. La nuova politica di Meta fa storcere il naso a non poche persone, non è immediatamente chiaro come Zuckerberg abbia pianificato il prezzo di Meta Verified nei paesi in cui gli utenti non possono permettersi di pagare 12 dollari al mese. In più, le novità di Meta arrivano in un momento in cui il modello di business basato sulla pubblicità, quello che ha dominato a lungo il mondo della rete Marcolla.